Vai! Mi raccomando lasciatemi dentro a metà per non spurcare le scarpe, tranquillo che ti reggo a non prendere io! Via! Vai Pietro, Pietro, Pietro! Figgiamo a me arriva là, rimane dentro come un cane! No, no, ce la faccio! Tutta a destra, Pietro, tutta a destra! No di lì, di là! Giusto, giusto! E allora! E allora! E che cavolo! Quante storie! Volevamo scendere di qua l'altra volta! Adesso ando dentro io, così almeno siamo a posto! Dai, fai il ritorno che l'hai fatta! Te l'ho detto che la facevi a occhi chiusi! Vai, Pietro, alla grande! Se va a destra, va dentro del buco, non esce giù al seveso! E allora, diglielo! Continuate a cicciarare! Grande! Grande! La cazzo di Atala da 500 euro! Sei calmo, non ci riesano troppo, perché devi passare di là! Adesso il prossimo è passare sotto il ponte, ma non quello grande, quello piccolo! L'hai fatta in un minuto e quindici secondi, quindi ci hai messo niente! In un minuto e quindici secondi, la foto della moglie dei figli! Cosa hai? La foto della moglie dei figli! Se muori te la metto dentro, non ti preoccupare! L'importante è l'eredità! E intanto l'ha fatta! Cosa posso dare? Bravo, Pietro! Comincio a mettere la catena! La catena? Ci vuole questo che è! Prossimo passaggio sotto il ponticello stretto! Adesso faccio il tubo sposto! Bravo! Cosa ti fai? È vero, il tubo! Il tubo grattacasco! Il tubo grattacasco che ce l'ha! Quello in bici non l'ha mai fatto nessuno! Sì, ma non c'ho il casco! C'ho la macchina, c'ho la zampina il casco! Eh, non lo so cosa c'ho! No, lasciato a casa! E' vero, c'è quello la bianco! E' vero! C'è il suo! Ce l'abbiamo il casco! Ce l'abbiamo il casco! Soltanto il casco! Quattacincent'euro oggi! Mi metto di sopra io con il ranco, così lo abbasso un pochino! No! E' vero! Vado, vabbè, ma... Tu vuoi troppo! Vedi, così imparate! Bauscia! Bauscia! Vertigo e Montesa da 15.000 euro! Per fare 10 centimetri di acqua! Datala da 250 euro l'ha fatta meglio! Cià, andiamo, va! Dio che è duro! Forco Dias! Montesa da 500.000 euro! Sotto qui bisogna passare! Sotto qui sì! Sì, ecco, hai trovato come ammazzare la moglie! Guarda che sto ancora filmando eh! Non esagerare a dire le cose! Ormai sei lì! Dopo scende a piedi... Posso spegnere sì!